Siamo nascosti, facciamo un applauso, guardate quanto è bello, guardate quanto è bello Lorenzo! Lorenzo, a parte siamo legati dal fatto che è della nostra stessa terra, però io adesso Lorenzo, siccome tu sei una persona atletica, io vorrei approfittare di te per far vedere che gli atleti sono anche dei bravissimi ballerini. Allora, non dobbiamo farlo noi perché abbiamo chiamato un coreografo eccezionale, il coreografo di Madonna, signori Enfizer! E' una sera, non so la parte chiunica, ma è fin tigne, si con noi! Asper, fatta all'arco! Che fatta all'arco? Ma che fatta all'arco? Asper, è bellino, è molto curto per ora! Ma fai in serio! Ok, è un sereno! Scusa, ti ho presentato a Lorenzo come... Come si chiama? Lorenzo Enfine. Ma... Che c'è? E' un grandissimo giocatore del Nato! Amico tuo? Si, anche amico nostro, amico nostro! Ma perché cosa? Scusami! Allora... Ma che... Allora... Senti, ma tu giochi da palla? Non cominciamo... C'è pure che palla! No! Signori, mi sono messo in un pasticcio! It's okay! Ok, I'm sorry, stop, 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 sorry. This is a microphone spade, la città per... Ah, aspera... E' un piccio bottone, Lorenzo, è un piccio... No, che sto bottone... Ma come lo mantiene bene, gelato, mamma... Allora, allora, dovete sapere che Enfisem è un grande ballerino... Yes, thank you, Enfisem. Lui ha fatto il coreografo per Beyoncé... Che culo, mamma mia! Per Shakira... Ah, tu culo, così. Per Madonna... Madonna, che culo, tutte e tre! Ma come Madonna? Ma no! Ma no! Ma no! Ok, ok! E' un piccolo giocatore del Nato! Eh, Lorenzo, chiede, calma, mi preoccupate, non do culo a te, ok? Ok, allora, facciamo il grande dancer, ok? Don Lorenzo, io insegno il ca... Allora, Lorenzo, io insegno a te... Che cagate così... Bellissima, andiamo avanti! Abbiamo... Ok, allora, facciamo il primo step, facciamo il primo step con un grande artista, my friend, è un Nick Iglesias! Yes! Ok, Enfisem. Ok, vuoi conoscere tutte quante Nick Iglesias, che cazzone canta Nick Iglesias? Eh, non lo so. Ah, sa, mi hai messo in... Non lo so. Ok, allora, facciamo così, facciamo... Allora, facciamo grande parte di Nick Iglesias. Allora, primo passo, tu fai la parte di Nick Iglesias. E lui? Fa la parte di papà. Julio? Te la faccio a Julio, proprio, guarda. Non ti permettere! Tu non ammora di me, Gesù? Ma che ammora di tu? Ma lo senti io! Ok, vogliamo fare il primo step? Ok, bagniamo, dai, facciamo vedere. Allora, Lorenzo, primo step, fai con questa gamba. E siamo avanti a cosci, dai, io, frate. I'm sorry. Five, six, seven, eight, one. One. And two. And two. And three. And three. Non si storti, ma non è... E poi facciamo, ah, le capo in giro, ma... E poi facciamo, salvo, brazio, come possiamo... Ma no, è difficile, lo sai fare, tu, Lorenzo? Ma è stato un brasiliano, fatta, fatta, fatta gente. A poi giriamo così, tutti quanti, da quella parte. Five, six, seven, eight. Ma è un uomo di poca fede, eh? È un uomo di poca fede. Poca fede, ma quella però, mannaggia, mi sembra, mannaggia. Ma che cosa? Ho andato a mettere i piedi. Ma che giurisone? Ok, vogliamo fare con music? Oh, mamma mia. Facciamo con music, dai. Facciamo con music, dai. Eh, serio però? Così, 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 così. Ok, abbiamo capito, vai, sì, vai. One, two, three, four, five. Six, seven, eight. Qui chi parla, che è meglio?